buongiorno a tutti voi una giornata soleggiata una giornata per una svolta una svolta a sinistra una svolta a destra per prendere una decisione che avete rimandato fino ad oggi allora appena c'è l'opportunità coglietela trasformatela in azione azione in un'azione trasformatrice in uno stato attuale che desiderate cambiare allora quell'azione è movimento quell'azione è cambiamento e questo come lo si fa lo si fa con una certezza con la fede che è già fatto che è la cosa buona per te che è quello che tu senti dentro di te poi il come tutto si realizzerà quello non è necessario pianificarlo nei dettagli ma tu prendi quella direzione vai lì proprio dove senti che ti porta il cuore dove sorridi e dove sei sereno perché la strada giusta è quella che ti fa rilassare è quella che ti da pace che ti da armonia e ti porta più in alto allora fallo decidilo uccidila quella paura hai un'intenzione esprimila urlala ad alta voce chiaro tienila per te anche questo devo imparare tienila per te quell'intenzione non condividerla con tutti anche io devo imparare e devo imparare tantissimo ma non devo arrabbiarmi se devo ancora imparare devo essere felice e fiero di me perché ho capito che ho ancora tanto da capire finché la battaglia non avrà fine dice mio caro amico alberto ferrarini questa è la sua formulazione allora la riprenderò in futuro non citando più la fonte perché tutto è di tutti e tutto è di nessuno aug una bellissima giornata ci aspetta già perché questa qua è già se ne sta andando allora programma già al domani oggi un abbraccio